Una perdita di controllo del mezzo o forse una manovra di sorpasso azzardata è costata la vita ad una donna di 40 anni, madre di tre figli, marocchina di origini ma residente a Cagli. Le cause della collisione mortale sono ancora al vaglio della polizia stradale. Alle 10 e un quarto di questa mattina lungo la strada statale 73 bis la donna a bordo della sua Fiat Punto stava recandosi al lavoro ad Urbino quando all'interno della galleria Cagulino in località Le Conce è avvenuto lo schianto fatale contro un furgone Fiat Ducato che proveniva in senso opposto con a bordo due uomini di Urbania di 31 e 46 anni. Immediati i soccorsi del centro di Giotto ma per la donna non c'è stato nulla da fare mentre per i due uomini si è provveduto da parte dei sanitari al trasferimento in codice rosso al pronto soccorso di Urbino. La polizia stradale intervenuta sul luogo ha chiuso la galleria ed il traffico è stato deviato dall'ANAS sulla vecchia arteria in modo da non intasare la viabilità ordinaria. Sul posto anche una squadra dei vigi del fuoco di Urbino per la messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti nell'incidente. La galleria poi è stata riaperta alle 13 e 30 non appena i mezzi sono stati rimossi e il manto stradale bonificato dai liquidi persi dai due mezzi.